Ciao a tutti, scusate questo video a quest'ora tardissimo, soprattutto tardissima, soprattutto scusate il fatto che io lo faccia con un cellulare, che come video e audio, mi rendo conto, non sia al massimo, ma volevo farlo uscire un po' in fretta, perché? Perché sono alcune ore che ricevo tutta una serie di messaggi via Facebook, via Instagram, addirittura qualcuno che aveva il mio numero me l'ha scritto direttamente tramite WhatsApp o tramite Telegram, tutta una serie di messaggi che mi dicono che qualche ora fa Vanilla Magazine, meraviglioso canale YouTube di divulgazione storica, ha pubblicato un video sull'unità 731, cioè quell'unità giapponese che durante la seconda guerra mondiale faceva esperimenti umani e a cui abbiamo dedicato un video una settimana fa, lunedì scorso. Ora, molti di quei messaggi, peraltro con toni anche molto aggressivi, dicevano, ah ti ha rubato il video, vedi che ti ruba il video, ragazzi, ma siete fuori come dei balconi, ma non mi ha rubato nessun video, ha semplicemente raccontato la stessa storia, in maniera del tutto, del tutto casuale. Ora, vorrei dirvi alcune cose. Primo, per quanto sia una conoscenza puramente informatica, io Matteo, che cura Vanilla Magazine, che è chi vedete ovviamente che racconta nei video, oltre che essere il direttore della rivista online, lo conosco, è una persona più che squisita, più che squisita, bravissima, preparatissima, che sicuramente non verrebbe mai a rubare un video a me, anche perché ha modi e capacità per raccogliere informazioni molto migliori rispetto a quelle che saprei raccogliere io. Quindi al massimo, al massimo, dovrei essere io ad andare a rubare i video a lui. Secondo punto, ora, io non so che idea vi facciate del tempo che ci mettiamo a fare i video che facciamo uscire, ma non crediate che se io oggi vedessi un video, tra 4 o 5 giorni sarei pronto a girarne uno identico, perché non funziona così, non funziona così. Per girare un video ci vanno settimane, a volte mesi di lavoro, perché tante volte le informazioni, magari uno ha l'idea di girare un video, ma non trova le informazioni, poi trova le informazioni e non riesce a metterle a posto, insomma ci vanno mesi a volte. Pensate che la prima volta che ho avuto l'idea di girare il video sull'unità 731 è stato due anni fa, era da due anni che ce l'avevo segnata quest'idea. Poi, sei mesi fa, ho trovato il grosso del materiale, che non mi convinceva ancora, e l'ho tenuto lì tra le cose incomplete, due mesi fa ho trovato due articoli in inglese che tappavano gli ultimi buchi e ho deciso che era pronta da girare. Sapete per quando avevo programmato quella pillola? Per domani, domani, mercoledì, solo che dato che il video che doveva uscire lunedì scorso non era ancora pronto, e uscirà domani, ho deciso di invertirli, e quindi è stato un puro caso che questi due video siano arrivati così uno vicino all'altro. Terzo punto, qualcuno mi ha detto, ah ma hai visto che non ha neanche detto che tu avevi girato un video, ma perché doveva dirlo? Cioè, probabilmente non lo sapeva neanche. Ora, in un mondo bellissimo, io vorrei avere il tempo per vedere tutti i video di divulgazione storica che vengono pubblicati su YouTube, ma purtroppo quel tempo non ce l'ho, e neanche canali che seguo, perché apprezzo tantissimo, come Vanilla Magazine, purtroppo non riesco a vedere tutti i video che pubblicano, perché fisicamente non ne ho tempo, magari poi li recupero, magari poi mi capita, ma non li vedo. E come non li vedo io? Credo non li veda neanche lui, perché ripeto, è impossibile, è impossibile riuscire a vedere tutti. Quarto e ultimo punto, quarto e ultimo punto. Tutto questo, tutto questo, mi spiace dirvelo, ma succederà di nuovo. Succederà di nuovo perché purtroppo gli argomenti storici sono quelli, purtroppo o per fortuna, e capiterà che un argomento che è già stato trattato da qualcuno verrà trattato da qualcun altro, che però lo farà in un modo diverso, con il suo stile e il suo modo, non perché ha rubato, ma perché racconta le stesse cose. Mi avete scritto oh, vai a vedere il video, ha detto le tue stesse cose, grazie che ha detto le mie stesse cose, e stavo per dire qualcos'altro, meno male che ha detto le mie stesse cose, perché stiamo raccontando degli eventi storici, e quindi meno male che diciamo le stesse cose, perché vuol dire che probabilmente stiamo raccontando le cose così come stanno, non ce le siamo inventate, e meno male che lui ha detto le stesse cose che ho detto io, perché altrimenti mi sarei preoccupato di aver detto io delle stupidaggini, perché mi fido molto di più di lui, del suo metodo di controllo, piuttosto che del mio, perché lui ha tanti anni di esperienza che io non ho, e quindi francamente mi fido di lui. Quindi ragazzi, vi dico, basta, basta mandarmi questi messaggi, nessuno ruba niente. Se andate in libreria, nella sezione saggi storici, troverete che ci sono un sacco di libri che parlano degli stessi argomenti, ma non perché si copiano l'un l'altro, di solito, ma perché parlano dello stesso argomento. Andate a vedere quanti libri ci sono su Napoleone o in Italia su Mussolini, ne vedrete decine, ma non è che si copiano l'un l'altro, raccontano semplicemente le stesse cose. Peraltro, ripeto, tra l'altro io e Matteo facciamo parte dello stesso gruppo di divulgatori, quindi in realtà abbiamo già fatto delle cose insieme, è stato, ha partecipato anche alla live sull'Ucraina, ha fatto un bellissimo intervento, in futuro abbiamo già riso di questo argomento, in futuro magari faremo qualcosa insieme, così in quel caso sì, potrete dire che facciamo le cose veramente insieme. Per il resto è casuale. È successo questa volta, era già, se vi ricordate, è capitato anche a me in passato che circa un mese e mezzo dopo Europa Antico avevo pubblicato un video dedicato ai romani in Irlanda, in quel caso fortunatamente il video l'avevo visto e quindi avevo potuto dire guardate che c'è anche quel video, ma era stato assolutamente un puro caso, quindi è capitato, è capitato oggi, è capitato in passato, capiterà ancora. Accettatelo e decidete. Guardate entrambi i video, guardate in uno solo, nel caso vi consiglio quello di Matteo, che ripeto, secondo me li fa molto meglio di me e capiterà ancora. Quindi accettatelo e così. E basta mandarmi questi messaggi, santo cielo benedetto, io non attacco Rissa con nessuno e assolutamente non ci tengo a farlo e non fatelo neanche voi. Io vi saluto, vi auguro buona serata e a presto. Ciao ciao!